Eccomi qua! Pismo Beach! Ehi, aspetta un minuto! Questa non somiglia affatto a Pismo Beach! Mi sa che ha dal buchè che dovevo girare a destra e poi... Uh, guarda le dimensioni di quel distributore di succo di carota! Allora, dove ha Cedempoli? Mi trovo! Forse la persona che vive in questo loco mi può dire dove sono e come evitare di restarci più a lungo! Vieni, entra! Come stai? Il mio nome è Merlino e sono un mago! Sì, sul serio? Un mago? Andiamo, fammi vedere una magia, eh? Ti prego, ti prego! Ma certo! Qualsiasi cosa per compiacere un ospite! Niente male come trucco, Merlino Ceccino! Tu lo sai fare, questo? Così almeno avrà un hobby, ma io mi sento ancora un po' lontano dal mio abitato naturale! Mi spiace interrompere questa dimostrazione spettacolo, ma saprebbe dirmi dove mi trovo? Sembra che tu ti sia perduto nel tempo, mio caro! Qui non siamo in nessun luogo! In nessun luogo? E sa dirmi come faccio per tornare in un qualche luogo? Certo che lo so! Devi andare da un'epoca a un'altra e trovare simboli come questo! Essi ti daranno accesso a nuovi luoghi e ti riporteranno progressivamente al tempo presente! Allora, fai attenzione, coniglio! Raccogli dieci di questi oggetti per ottenere un simbolo orologio! Basta, basta così per ora! Ciao! Sì, ci vediamo, Merlo! Sì, ci vediamo! Grazie.